Basta, due soggetti che non parlano, non sono attivi, vado di là. Tu! Allora, ecco che vi presentiamo il mala e l'aiuto a mala. Il mala e l'aiuto a mala. E lei chi è? Praticamente sono gli inservienti di questa proprietà, sono assunti a tempo determinato. Che tanfora che esce da quel coso. Va bene, auguri eh? Thank you. Mi piatti in mano, sto facendo la serva. Guarda che non può sempre vincere questo eh. No, no, no. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri Fentonio e Sonio, tanti auguri a te. Bacio, 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 bacio. Thor, Thor, vieni fuori. Bacio, eccolo qua. Dai bacio, Antonio. Dai bacio, vai. Non mi bacio. Non l'ha capito subito, a vita mi è arrivato. E a questo solo lì? Non si cura?